Musica Cari amici della televisione di quotidiano.net, buongiorno, bentrovati per parlare di calcio, per parlare del grande anticipo di cui sarà teatro allo stadio dall'Ara di Bologna, domani sabato in occasione di Bologna Inter. Insieme con noi Giuseppe Tassi, vice direttore di quotidiano.net, attento osservatore delle vicende rosso-blu. Che partita ti aspetti Beppe da Bologna Inter? Una partita da incorniciare anche per il pubblico del Dall'Ara che sarà un pubblico di grande occasione, sarà tutto esaurito il Dall'Ara come raramente succede e si prepara naturalmente l'arrivo della capolista, dunque il Bologna che storicamente è il grande rivale dell'Inter, lo sapete anche per il famoso spareggio del 63-64, naturalmente questa occasione da sempre è attesa con grande apprezzione dai tifosi del Bologna. Quindi credo sarà una partita da vivere intensamente e il Bologna si giocherà tutte le sue chance anche se la differenza tecnica ovviamente è in partenza notevolissima. Il successo sul Palermo ha rinfrancato considerevolmente il rosso-blu, ha soprattutto confermato come le scelte di Colomba siano state azzeccate. Di solito quando c'è una sosta alle spalle il campionato a riserva sorprese, soprattutto per le squadre, è il caso dell'Inter che hanno avuto molti nazionali impegnati con le rispettive rappresentative. A tuo avviso quale sarà la tattica che Colomba intende adottare per bloccare il prevedibile attacco dell'Inter? Colomba intende, credo, replicare quello che ha fatto contro il Palermo. Era un Bologna molto attento, assolutamente accorto per quel che riguarda la disposizione in campo ma che non rinunciava a niente, tanto è vero che aveva Adahilton come rifinitore dietro alle due punte Di Vaio e Zalaieta. Questo dovrebbe essere lo schema confermato contro l'Inter, chiederà un dispendio fisico notevolissimo a Mingazzini e Valiani che insieme a Guana saranno i perni del centrocampo ma soprattutto dovranno essere gli attaccanti, Zalaieta e Di Vaio sui lati e lo stesso Adahilton a rientrare profondamente. Se tutto funzionerà come è funzionato come contro il Palermo sicuramente il Bologna può giocarsi la partita, certamente non alla pari ma a difendere fino in fondo le sue chance. I pronostici non li sbaglia soltanto chi non li fa? Qual è il tuo? Il mio pronostico è sicuramente quello di un Bologna che riesce a reggere la partita con l'Inter e volendo scendere sul piano numerico diciamo uno a uno. Grazie a Beppe Tassi, vice direttore di Quotena.net e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti.